Quasi 2 milioni di euro faticosamente inseguiti nell'ultimo anno. Sono i fondi destinati a rischio idrogeologico per la città di Montesilvano, quella che nell'alluvione del dicembre 2013 riportò come altre città limitrofe gravi danni al territorio e alle abitazioni. Io credo che in questo periodo c'è una grossa sensibilità anche da parte del governo e i fondi sono stati stanziati. La regione Abruzzo, che abbiamo contattato sin dal nostro insediamento, aveva inserito Montesilvano tra le priorità. È chiaro che Montesilvano ha un doppio problema. Uno, il problema idrogeologico ce l'ha e ce l'ha anche grave. Dall'altro c'è quello della burocrazia, o meglio, in tanti anni purtroppo non si è mai pensato di perimetrare delle zone e quindi queste zone non venivano mai reputate zone a rischio. Per accedere ai fondi c'era bisogno di fare una perimetrazione. Noi oggi abbiamo fatto anche quello e contiamo che a breve possiamo ottenere dei fondi per ripristinare delle zone che sono a elevato rischio. Un difficile tira e molla oggi possibile grazie anche alla visita del numero uno della protezione civile Gabrielli che ha così sancito l'ok definitivo. Noi abbiamo la zona di Viaspromonte che è stata oggetto proprio di una frana qualche settimana fa e che oggi vede delle famiglie che non possono manco rientrare a casa. Poi abbiamo anche il centro storico di Montesilvano Colle che è interessato da diversi movimenti franosi. Abbiamo chiaramente la situazione di Vallecupa che è ormai datata dei 15 anni dove c'è stato anche lo spopolamento da parte di cittadini. È chiaro che tutto il territorio va tenuto in costante monitoraggio.